Sì, sì, sicuramente, quel momento lì, anche se sono passati a oggi 39-40 giorni, mi sento già un altro perché era un momento difficile, però ho avuto veramente il supporto di tutta la città e quindi mi hanno dato la forza per rialzarmi quanto prima. Ora, sinceramente, non vedo già l'ora di ripotermi allenare perché sono andato a vedere tutte le partite della mia squadra in casa in trasferta e è un patimento stare fuori, è veramente un patimento, quindi non vedo l'ora che i medici mi ridiano l'ok, quantomeno per rialenarmi con il gruppo e poi ripoter dare il mio contributo la domenica. Niente, ho fatto i controlli, ho fatto la radiografia per vedere il livello osseo, come erano messe, se le cose stavano andando bene, i medici mi hanno detto che sta andando tutto bene e quindi il prossimo passo, il 2 ottobre, vado a Fidenza a fare la maschera, mi faranno la maschera protettiva per il viso e da lì penso di ripotermi riallenare in gruppo con la squadra, piano piano ritrovare la condizione perché per un calciatore professionista stare fermo, fermo 40 giorni sono tanti, dicano che equivalgano al doppio poi per lavorare e per ritrovare la condizione, quindi sicuramente mi riaspetta rifare un altro ritiro, allenarmi un'altra volta come ho fatto il ritiro, però sono pronto a farlo perché ho tantissima voglia di rientrare in campo nonostante posso avere ancora l'immagine di quel momento perché anche se non sono uno che ha paura la domenica però ho sentito veramente tanto male, quindi sicuramente all'inizio non sarà facile riavere contatti diciamo dalla parte alta del corpo però sono convinto che riuscirò a superarla allenandomi con il gruppo e riuscirò a superare questa paura che posso avere adesso e quindi non vedo l'ora ti ripeto di rientrare a allenarmi Io ho visto tutte le partite e sto vedendo una squadra che ogni domenica Renate si può dire che è stato un episodio perché poi la volta dopo abbiamo vinto in casa con l'Olbia e quindi è stato subito cancellato, quindi ho visto una squadra equilibrata e che sta portando a casa punti e che c'è, una squadra che c'è, che è viva e che sta facendo ogni domenica la prestazione che ti garantisce poi punti la domenica, quindi sono contento della mia squadra e li vedo lo spogliatoio con fiducia, ora rivivo lo spogliatoio perché tutti i giorni comunque sono a allenarmi con loro anche se a parte e quindi sono contento del percorso che sta facendo a Ponte d'Era